Benvenuti nella controrassegna stampa delle notizie meno diffuse dai medi italiani allineati all'euroatlantismo. Il dollaro, la moneta, la valuta americana continua incredibilmente ad un ritmo incredibile la sua discesa nelle quote del commercio o meglio degli investimenti valutari mondiali. Il suo status viene meno gradualmente negli ultimi anni e nell'ultimo anno, nel 2022, ad un livello mai visto. Parola di Stephen Yen, che è il direttore di Eurizon, che ha sede a Londra ed è un'azienda che si occupa di investimenti valutari, quindi in moneta. L'anno scorso, nel 2022, ha perso quota il dollaro americano dieci volte più velocemente di più rispetto agli ultimi due decenni, pensate un po'. La causa principale, secondo l'esperto, è che vari paesi come la Russia, la Bielorussia, la Cina, l'Arabia Saudita cercano delle alternative ai sistemi di pagamento americani come lo SWIFT, la Russia soprattutto sanzionata in questo senso. Il dollaro dal 2016 ha perso l'11% delle quote mondiali per quanto riguarda gli investimenti valutari. Dal 2008 ha perso il doppio, quindi il 22%, e attualmente la moneta americana rappresenta il 58% di investimenti valutari mondiali, il 58% del mercato, e nel 2001 invece rappresentava il 73% degli stessi investimenti. L'Indonesia segue il gruppo dei BRICS nel processo della dedollarizzazione degli scambi commerciali e finanziari delle transazioni internazionali da Jakarta verso l'esterno e viceversa. Lo riporta il quotidiano, il portale di informazione locale Sindonews, sulla base delle parole di Peri Warioa, cioè il governatore della Banca Nazionale Indonesiana. India e Bangladesh, stessa cosa, fotocopia, dedollarizzazione, lo riporta il quotidiano del Bangladesh, The Business Standard, che si occupa evidentemente di finanza. Le transazioni locali e verso l'estero saranno trattate in moneta locale, quindi indiana e del Bangladesh, quindi in rupie indiane e in taca del Bangladesh, dello stesso paese. Ringrazio per il contributo al canale Federica. Evidentemente ci sono delle persone che credono e capiscono il senso di queste controrassegne, cioè portare un'informazione complementare e non uguale a quella allineata principale italiana, quindi in questo caso soprattutto ultraatlantista ed europeista. I turchi non vogliono entrare a far parte di quei paesi come quelli dell'Unione Europea che approvano sanzioni economiche, finanziarie antirusse. Lo dice nella campagna elettorale presidenziale in una cittadina locale turca il ministro degli esteri di Erdogan, Mevlut Cavusoglu, parole, video riportate evidentemente dalla televisione nazionale TRT. Dice il ministro, il capo del dicastero di Ancara, facciamo parte, siamo tra i paesi indubbiamente più forti della Nato, come Turchia, come esercito. Il nostro paese, dobbiamo assolutamente difendere però gli interessi nazionali e non dobbiamo assolutamente piacere a nessuno, cioè agli Stati Uniti d'America, al Regno Unito, soprattutto per delle scelte che facciamo o che non facciamo. E non distruggeremo la nostra economia, le nostre esportazioni verso la Russia per questo motivo. Però che cosa facciamo come Turchia? Rispettiamo gli accordi di Montreux, Bosforo, Dardanelli, le navi russe, eccetera. Non riconosciamo la Crimea russa e sosteniamo l'Ucraina anche militarmente per la sua integrità territoriale. Però, come detto prima, manteniamo questa neutralità, questo equilibrio tra Russia, Ucraina e Stati Uniti stando dentro alla Nato, per esempio con aiuti militari, dando armi all'Ucraina in maniera diversa da quello che fa solamente l'Ungheria nella Nato, l'Ungheria di Orban, che non dà armi. La Colombia, il presidente nazionale, in visita alla Casa Bianca da Joe Biden in conferenza stampa, rassicura che continuerà come paese a non fornire armi all'Ucraina, soprattutto, come dice il presidente, gli elicotteri di produzione russa. Presidente Gustavo Pedro, in visita da Biden, la proposta americana, l'esortazione a inviare aiuti bellici a Kiev non è stata neanche presa in considerazione. Questo ormai è il potere che hanno gli Stati Uniti su certi paesi, sul cosiddetto resto del mondo, sud del mondo, praticamente che va scemando, non c'è praticamente quasi più, sempre meno paesi si schierano apertamente militarmente per gli interessi americani Nato. Cominciano, iniziano gli ammutinamenti, le rivolte dei soldati ucraini, secondo Yevgeni Prigojin, il fondatore della Wagner. Siamo nelle città, si parla soprattutto di Bachmut, Artyomovsky, Donbass, Donetsk. Nella via di rifornimento ucraina, che è rimasta l'unica per l'esercito di Zelensky, quella di Chasov, Yar, nomi russi e Konstantinovka, lo riporta, riportate le parole del cosiddetto cuoco di Putin, un imprenditore, un ristoratore, tutto è partito da lì, del ristorante preferito a San Pietroburgo, da Putin, Yevgeni Prigojin. Che cosa dice? Che i soldati ucraini stanno sempre più buttando via le armi, si alzano, se ne vanno. Esorto, come Yevgeni Prigojin, queste sono le sue parole, non le mie, questo che non viene capito da qualcuno, è qualche intelligentone che fa finta di fraintendere per segnalare. Esorto, gli esorto Zelensky, presidente ucraino, Oleksandr Siersky, il capo delle forze armate di terra ucraine, a lasciare andare questi ragazzi, questi giovani, date una possibilità loro per sopravvivere, per salvare la pelle, dice il cosiddetto cuoco di Putin. In vano vorrebbero gli ucraini, per esempio il ministro degli esteri di Kuleba, un mar nero, mare della Nato, dell'alleanza nord-atlantica, quindi ucraino sostanzialmente, per la parte nord e turco per la parte sud, e poi le altre parti come quella rumena, bulgara, eccetera. E via la Russia, magicamente, soprattutto nel nord-est-est. Perché? Perché i russi stanno ammassando nuove navi da guerra, di nuovo in stato di guerra, pronte per l'utilizzo, 11 imbarcazioni militari moscovite, come direbbero gli allineati, tra cui due delle 11, tra cui due sottomarini armati di missili da crociera, cruise missiles per i globalisti, caliber, quelli famosi, ipersonici, che non possono essere sostanzialmente intercettati dalle contraeree o neanche quelle occidentali più moderne. Nuovo video, nuova razzia degli ucraini, uomini armati in divisa militare contro una ennesima chiesa ortodossa della chiesa ortodossa ucraina non legata a Zelensky, a Shemihal, cosiddetta UOC, che non va confusa con la PCU che invece è la chiesa, istituzione religiosa legata al regime di Kiev. Che cosa è successo? Che nelle ultime ore nel paesino di Trebuchiv, siamo nell'oblast di Kiev, della capitale ucraina, la chiesa Pokrovsky è stata attaccata, con dentro i fedeli evidentemente, da attivisti della chiesa filo ucraina ortodossa PCU, travestiti con le uniformi militari ucraine. Quindi attivisti che hanno aiutato nell'azione gli altri ucraini. E i fedeli, quindi della chiesa ex filo russa, hanno cercato di impedire questa razzia ai danni della loro chiesa. La polizia ucraina non è intervenuta. Video dell'accaduto. Vedete spintoni, anche anziane, persone comuni, e quindi la parte ucraina che cerca di entrare e impossersarsi di questo edificio. Va avanti la cosiddetta crociata anti-russa. In Ucraina, nello stato di diritto europeo, questo modello per la Fonder Lion, cioè l'elite politica ucraina, come Zelensky, che ha, come avrete anche letto in italiano, in Italia dai medi allineati, impedito la diffusione, l'uso di nomi delle cittadine pubblici di derivazione russa, comunque collegabili alla lingua russa e anche le statue commemorative. In quel pacchetto di leggi, come dice anche Lavrovna Rada, il Parlamento di Kiev, di decolonizzazione o de-sovietizzazione dell'Ucraina. Tutto questo, ripeto, nello stato di diritto europeo, nel modello della Fonder Lion per l'Unione Europea. Sono orgoglioso che l'Ungheria venga ditata come una non-democrazia, non stato di diritto UE dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea. Veramente sempre più orgoglioso. Per quanto riguarda ancora Zelensky, lo stato ucraino venderà o svenderà ancora di più le ditte, le aziende pubbliche in mano a Kiev. Perché migliaia di aziende verranno date a proprietari, vendute privatizzate, soprattutto a investitori esteri, americani in primis. Sulle 3.500 aziende in mano pubblica, 1.800 sono già fallite e non vanno avanti, non funzionano da mesi. Uno stato evidentemente in guerra. Lo riporta Bloomberg su fonti ucraine locali. Sempre il presidente ucraino ha definito populisti quei politici che nel mondo vogliono far sembrare la loro guida, la loro ideologia neutralista, neutrale. Vogliono rimanere neutrali nel conflitto. è impossibile, secondo Zelensky, rimanere neutrali di fronte all'aggressione russa. Queste persone non sono mai venute in visita in Ucraina a vedere le mostruosità commesse dai russi. Si riferisce non tanto a Orban, all'Ungheria, ma questa volta le parole del presidente brasiliano Lula da Silva, che in politica estera, come Bolsonaro, è allineato ai BRICS e non di certo ai voleri della Nato e dell'Ucraina. Il presidente Zelensky ha poi ripreso, attaccato quelle multinazionali occidentali che continuano a fare affari in Russia nel mercato di Mosca e dintorni. Lui parla di un mondo pieno di ipocrisia, lui invece è quello puro evidentemente di valori, di sani principi di vita. E zero, zero falsità. Orban Viktor, primo ministro ungherese, innalziamo a un nuovo livello sempre più stretto di collaborazione anche militare con la Serbia, con Belgrado. Visita nella capitale serba il presidente locale della Repubblica, Aleksandr Vucic, del primo ministro ungherese di Alti, ma anche del ministro della difesa di Budapest, Soloy Borovnitsky-Kristov, in cui si è anche assistito, tutti quanti hanno assistito ad una esercitazione militare aperta al pubblico dell'esercito serbo in occasione della festa delle forze armate di Belgrado, chiamata Granito 2023. Villa Gosdochak, un nuovo oleodotto per trasportare greggio e petrolio in direzione nord-sud e sud-nord, quindi in entrambi i versi, tra Ungheria e Serbia. Relazioni anche energetiche sempre più strette tra i due paesi dell'Europa centrale. A giugno probabilmente verrà firmato un accordo bilaterale tra Budapest e Belgrado. Visita a Budapest della ministra degli affari dell'energia serba Dubravka Dedovic dall'omologo Siarto Peter. Omologo no perché è un ministro degli esteri e del commercio estero, ma molto importante potremmo dire uno dei bracci destri di Orban. Aleksandr Vucic, quindi presidente di Belgrado, sempre. La Svezia, quindi ministro svedese, primo ministro, adesso non ricordo, in visita, anzi ministro Bilstrom, in visita a Belgrado l'altro giorno. La Svezia cosa chiede? Questo nella conferenza stampa, faccia a faccia uno con l'altro. La Svezia che vuole entrare nella Nato ma non è arrivata ancora la ratifica da Budapest e Ancara, ci chiede a noi Serbia di approvare sanzioni economiche anti-Ruse, ma noi vogliamo rimanere neutrali nel conflitto ucraino. Il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza schiacciante, per la maggioranza schiacciante globalista che c'è oggi purtroppo, fino alle prossime elezioni europee, quella proposta di un meccanismo di quote di migranti richiedenti asilo, per meglio dire, di ridistribuzione in tutti i 27 Stati membri. Senza la possibilità, se è approvata questa proposta del Parlamento europeo, anche dal Consiglio europeo, commissione neanche a dirlo, con la von der Leyen, prima delle prossime elezioni europee del 2024, prima che la maggioranza nel Parlamento forse cambierà contro i voleri globalisti dello Stato profondo americano e non solo. Ovviamente il veto ungherese polacco non basterebbe perché verrebbe approvata al Consiglio europeo una maggioranza qualificata dei due terzi. Devono fare presto prima che le cose si mettano mare per i globalisti. E qual è una delle prime conseguenze? Che i democratici svedesi, partito potremmo dire di destra nella coalizione di governo a Stoccolma, ha minacciato gli altri membri della coalizione di lasciare la coalizione, far cadere il governo, se al Consiglio europeo il governo voterà sì a questo nuovo patto per le immigrazioni con le quote automatiche nei 27, senza la possibilità di dire no dai governi nazionali. Un partito, quello dei democratici svedesi, che è sì allineato l'ucrainismo come la Meloni, ma non allineato all'immigrazionismo. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modio Rorsag.